Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del telegiornale dedicata al blitz eseguito dalla Guardia di Finanza a Gela, scoperti quattro depositi abusivi di GPL, denunciate altrettante persone. Bombole cariche contenenti quasi 800 kg di GPL, oltre ad un numero di bombole vuote idoneo a contenere più di quattro tonnellate di prodotto energetico, è quanto scoperto dalla Guardia di Finanza a Gela, diretta dal capitano Massimo De Vito. L'elemento di maggiore preoccupazione che emerge, sottolineano le fiemme gialle, è quello che è stata messa a repentaglio l'incolumità dei cittadini gelesi. Le bombole infatti erano custodite in quattro depositi abusivi di GPL tra la via Brasile e Contrata Giardinelli. Una piccola scintilla, unita ad una leggera fuga di gas, avrebbe causato un'esplosione di proporzioni disastrose. L'attività dei finanzieri è durata settimane ed è stata condotta nel settore del commercio di gas proprio in relazione all'approssimarsi della stagione invernale. I depositi scoperti, veri e propri centri di raccolta di bombole di gas, erano privi di autorizzazione in materia di detenzione e trasporto di materiale esplodente. I finanzieri sono giunti alla scoperta dei quattro depositi grazie all'individuazione di un piccolo furgone che si apprestava ad iniziare la sua attività commerciale giornaliera di smercio di prodotto energetico caricando bombole da un garage di un condominio. Il mezzo è stato fermato. Contemporaneamente pattuglie antiterrorismo pronto impiego dalla Guardia di Finanza hanno eseguito altre tre eruzioni in altrettanti depositi di gas non a norma. I baschi verdi hanno individuato i locali destinati abusivamente allo stoccaggio delle bombole, un camion privo di copertura assicurativa non idoneo alla circolazione ma utilizzato come deposito di materiale infiammabile e o esplodente. La Guardia di Finanza ha denunciato quattro persone per un totale di circa tre tonnellate e mezzo di gas detenuto senza alcun tipo di autorizzazione o di locale idoneo, 232 bombole piene e 458 vuote. I quattro denunciati devono rispondere di mancata detenzione della licenza per il deposito di materiale esplodente, omessa denuncia all'autorità competente della detenzione del prodotto oggetto di sequestro ed omessa richiesta del certificato prevenzione incendi riferito alla quantità di GPL detenuta. Le bombole e i locali sono stati sequestrati al fine di mettere in sicurezza il quantitativo di gas e gli immobili esposti al rischio e di residenti che abitano in zona. E adesso parliamo di politica. Il fondatore di Diventerà Bellissima nello Musumeci non le manda a dire Gela dice è stata tradita. Sentiamo. Gela è stata tradita. Il pensiero è del deputato regionale nello Musumeci, fondatore di Diventerà Bellissima. Proprio Gela diventerà bellissima mettere le sue radici in consiglio comunale con l'adesione di Enzo Cascino che ha lasciato il gruppo di un'altra Gela. Ma perché la città del Golfo è stata tradita? L'abbiamo chiesto proprio a Nello Musumeci. È stata tradita da un presidente della regione che non ha mostrato assolutamente di tenere in conto le promesse che aveva fatto in campagna elettorale ai suoi concittadini. Primo nei rapporti con i vertici del petrolchimico. Le inadempienze, le omissioni sono sotto gli occhi di tutti e continua a restare l'incertezza e la confusione sulle prospettive occupazionali della struttura, ma anche sulla possibilità di una seria opera di bonifica. In secondo luogo ha mostrato di disattendere le speranze dei cittadini gelesi o della maggioranza, voglio augurarmi, di quella cittadinanza che avrebbe voluto lasciare la provincia statale di appartenenza per aggregarsi prima al libero consorzio etneo e poi, dopo la modifica della legge, alla città metropolitana di Catania. È stata una condotta, quella di crocetta schizofrenica, assolutamente incoerente ed io ritengo che questo debba essere sul piano politico valutato come un tradimento nei confronti della città nella quale ha operato e dalla quale ha avuto consenso. Onorevole Musumeci, le chiediamo qual è il suo giudizio sull'attuale giunta comunale del Movimento 5 Stelle? Non esprimo alcuna valutazione sull'attuale amministrazione comunale, non ho gli elementi sufficienti per poterlo fare. Il consigliere comunale del mio movimento, Cascino, ed altri amici consiglieri con i quali ho rapporti di amicizia e di collaborazione, stanno valutando ogni iniziativa da assumere con molta onestà politica. Devo dire che dobbiamo dare ancora un po' di tempo a questa amministrazione per dimostrare di essere quella alternativa che avevano predicato prima delle elezioni amministrative. Ho qualche dubbio, ho qualche riserva, ma per una questione di onestà intellettuale ho anche il dovere di dire che è presto per esprimere giudizi compiuti e definitivi. Continua dinanzi alla Clinica Santa Barbara di Gela il sit-in dei nove operatori già in forza alla struttura sanitaria. Tre di loro hanno già ricevuto un provvedimento di mobilità anticamera del licenziamento. Come da accordi sindacali spiegano abbiamo accettato il cambio di qualifica da ASS a OSS con l'obiettivo di mantenere il nostro posto di lavoro. Per tutta risposta l'azienda ha assunto nuovi OSS senza tenerci minimamente in considerazione. La protesta scattata due settimane fa prosegue ad oltranza il sit-in dei lavoratori impegnati in servizi di assistenza all'interno della clinica convenzionata e appoggiato da CGL e CISL. Nuove basi portabandiera da questa mattina al comune di Gela, dalla facciata principale del noto edificio in stile razionalista, sventolano i drappi dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Siciliana, acquistati per l'occasione in un tessuto più difficilmente deteriorabile dalle intemperie. Altre due aste saranno utilizzate all'occorrenza a seconda degli eventi promossi nel Palazzo di Città. Le nuove basi con minore inclinazione rispetto alle precedenti consentiranno alle bandiere di non aggrovigliarsi su se stesse. I lavori sono stati eseguiti dagli operai della GELAS su input dell'ufficio di gabinetto del sindaco Domenico Messinese. Valentino Granvillano, è soddisfatto della riunione avuta con l'amministrazione comunale in merito ai nuovi orari della ZATL? Lei rappresenta il Consorzio Gelo Centro e più volte ha sottolineato che quegli orari bisognava cambiarli. Assolutamente sì, riteniamo che si sia raggiunto un alto livello di democrazia dove la politica gelese ha dimostrato che quando vuole può accantonare faziosismi di sorta e dedicarsi a dare risposte certe. Una ZATL che andava rimodulata, adesso avremo dei nuovi orari che sono dal lunedì al venerdì dalle 19.30 alle 21.30 e il sabbe della domenica dalle 16 alle 24. Questa proposta di potenziarlo nel fine settimana è una proposta che viene proprio dal Consorzio Gelo Centro dove riteniamo che il centro storico debba essere vissuto da un passeggio destinato alle famiglie ed è quello che noi vogliamo e ci auguriamo insomma di poter portare. Sicuramente va anche attenzionato oggi la poca fruibilità del centro storico ed è per questo che abbiamo chiesto una rimodulazione della ZATL. Ci auguriamo successivamente di poter intraprendere altre azioni con l'amministrazione per cominciare a parlare di una maggiore fruibilità del centro storico. E questo nuovo orario da quando sarà attivo? Questo nuovo orario ci hanno promesso che l'ordinanza sarà immediata quindi ci auguriamo che dovrebbe essere forse anche nella data odierna già emessa e di conseguenza pubblicata e già dalla fine settimana quindi da questo sabbato dovremo avere i nuovi orari. Su questo attendiamo il sindaco, logicamente non compete a noi. Ed è chiaro che così facendo l'auspicio, l'augurio da parte vostra, da parte dei commercianti, che realmente qualcuno almeno sotto le feste di Natale possa entrare nei vostri negozi e possa acquistare. Il commercio è assolutamente un settore molto particolare soprattutto in questo periodo. I commercianti del centro storico di loro stanno cercando di rivalutare con delle azioni anche personali e quali quella di un'animazione tutti i sabati e tutte le domeniche destinate sul centro storico alle famiglie, ai bambini in concerto con quanto l'amministrazione di suo sta facendo. E' chiaro che non basterà soltanto questo ma noi ce la mettiamo tutta. Venerdì 11 dicembre prossimo alle 18 il Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina Monsignor Rosario Gisana sarà in visita ufficiale alla Casa del Volontariato di Gele e terrà una relazione dal titolo La Valenza Sociale e Politica della Misericordia, quale volontariato per il bene comune. L'incontro è aperto a tutti i volontari impegnati in gruppi, movimenti, associazioni e cittadini che vogliono aprirsi all'esperienza del volontariato. Venerdì 11 dicembre alle 11.30 presso l'Aula Magna del Liceo delle Scienze Umane Dante Alighieri, l'ex magistrale di Via Europa Gela e Lions Club del Golfo di Gela presieduto da Eugenio Piazza presenterà agli studenti il progetto Martina Parliamo con i Giovani dei Tumori. Il progetto che coinvolge ogni anno circa 150.000 studenti italiani ha come obiettivo quello di portare a conoscenza dei giovani che oggi è possibile evitare molti tumori e aumentare anche la probabilità di guarigione con la conoscenza e l'applicazione di semplici accorgimenti. Relazionerà Giuseppe Di Martino, chirurgo-senologo assieme a Salvatore Migliore, componente della commissione distrettuale del progetto Martina. Alla fine dei lavori, cui parteciperà anche il presidente dell'ottava circoscrizione Lions Massimo Giordano, gli studenti saranno chiamati ad effettuare un test che permetterà di valutare l'efficacia del service. Arancini, pizzette, pasta al forno, un menù ricco di sapori e colori per i piccoli invitati alla cena di beneficenza organizzata dal Lions Club e dalla Croce Rossa. Ad apparecchiare la tavola della mensa dell'Istituto Testa Secca e a servire gli 80 piatti che anticipano un po' il cenone di Natale, gli allievi della Federazione Italiana Cuochi guidati dal presidente Giovanni Chianetta e da alcuni professionisti che hanno curato nei minimi dettagli le varie fasi della preparazione dei manicaretti, ispirandosi alla tradizionale cucina siciliana. In questo modo stiamo regalando il Natale perché secondo me tutti abbiamo il diritto di sedersi magari una volta all'anno e essere serviti e trovare delle specialità sopra questa tavola che andremo a preparare. Certamente è motivo di grande gioia questo momento dove si è creata questa sinergia tra diverse associazioni quali la Croce Rossa Italiana, l'Associazione Provinciale dei Cuochi e il Lions Club insieme al presidente del Testa Secca che ha messo a disposizione questa struttura proprio per realizzare quello che è oggi una bellissima iniziativa nei riguardi delle famiglie nissene in difficoltà. Un goloso albero di Natale è stato poi il dessert che le mani esperte del maestro pasticcere Lillo De Fraia assieme ai suoi allievi hanno realizzato. Una torta a forma diabete farcita con panne e cioccolato è ricoperta da coloratissime caramelle. Quale migliore occasione appunto per fare un albero di Natale per questa causa così nobile? Quindi visto che parliamo di bambini parliamo sicuramente di una torta non alcolica parliamo di una torta fatta di cioccolato per entrare nel mondo di Ansel Gretel e parliamo diciamo che va a rappresentare un augurio anche per tutte queste associazioni così deliziose e così presenti in questo momento di partecipazione. Il Santo Natale è una festa che appunto va ricordata specialmente per le persone che hanno più bisogno e oggi purtroppo ci sono tante persone che hanno bisogno, in modo particolare i bambini di tutto il mondo. Continuano le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio promosso dal Comune di Gela fino al 6 gennaio nei locali di Palazzo Ducale la mostra dei presepi vita di Gesù di Francesco Bonvissuto fino al 10 gennaio pattinaggio su ghiaccio e venti mostra di presepi albero della vita nel piazzale della chiesa di San Rocco a Cantina Sociale sempre fino al 6 gennaio nel Palazzo Regina Margherita presepi artistici da domani fino al 15 dicembre nella chiesetta San Biagio mostra dell'artigianato femminile creative Natale 2015 sabato 12 dicembre alle 18 nei locali del Museo archeologico regionale mostra d'arte contemporanea mediterranea a cura di Salvatore Parla Greco l'iniziativa dell'Accademia Internazionale Città di Roma Termina qui la prima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo, c'è la pubblicità, la linea va alla regia tra poco restate con noi Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale l'ora del codice che mira ad una educazione informatica sbarca al Museo archeologico regionale di Gela appuntamento previsto per domenica 13 dicembre dalle 9.30 alle 13 l'evento gratuito che negli anni passati si è svolto nelle scuole con ampia partecipazione di studenti è stato organizzato da Coderdoglio Gela e da Google Developer Group Gela i partecipanti di ogni età saranno coinvolti nello scoprire la storia del nostro territorio prima visitando il museo e poi riportando nel mondo virtuale dei videogiochi quanto appena appreso recuperare la memoria storica che si tramandora al mente affinché non vada perduta definitivamente insieme ai suoi custodi, gli anziani parte di questa memoria storica sono i 2777 proverbi gelesi, detti, motti e anticalie raccolte in un libro dallo scrittore gelese Giorgio Romano i nostri nonni custodiscono nelle loro parole e nei loro racconti infatti un patrimonio immateriale di inestimabile valore recuperarlo e tramandarlo alle nuove generazioni ha una valenza straordinaria affinché parte delle nostre tradizioni e delle nostre origini non vadano disperse l'autore del libro Giorgio Romano è un libro che contiene tutta la storia popolare di Gela perché non è un libro solo di proverbi ma parla anche di personaggi tipici gelesi, arti e mestieri dette alla gelese, soprannomi oppure avversigliativi e accrescitivi dei nomi gelesi ho riportato opportuno scrivere questo libro perché alle nuove leve sono sconosciute tutte queste antiche usanze di Gela ho riportato anche delle fotografie, quando dice il titolo anticalie, dove c'è il ferro a stiro a carbone il lube a petrolio, il primis con cui si cucinava per cui praticamente è un complesso, un assemblamento di diverse cose che sono sconosciute per più per portare la conoscenza ora i proverbi, la parola proverbi deriva dalla parola ebraica Michelin anche la Bibbia parla dei proverbi che risaltano ai proverbi egiziani i proverbi sono sentenze, previsioni e detti che hanno una valenza storica sono anche piccole profezie, noi sappiamo che la profezia si avvera in qualsiasi campo mentre la previsione si può non avverare anche nella Bibbia, ripeto, c'è il libro dei proverbi e io non che abbia copiato la Bibbia ma ho riportato a livello popolare quanto riguarda alla cultura popolare gelese Proseguono gli appuntamenti in occasione della 81esima stagione concertistica gelese promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra domenica 13 dicembre alle 19 nei locali di Palazzo Pignatelli quartetto lirico strumentale con Giovanna Nuara, soprano, Pinella Sciacca e Sabrina Ciliberto, pianoforte ed Elisa Vita al clarinetto Adesso la nostra consueta rubrica in breve, vediamo Natale in casa Cupiello si tratta del prossimo appuntamento previsto il 12 dicembre alle 17.15 alle 21.15 al Teatro Comunale Eschilo di Gela sul palco Enrico Guarneri la regia è di Antonello Capodici per informazioni il botteghino resterà aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20 per informazioni 0933 91 18 92 oppure 345 58 80 580 prenderà Elvia il 15 dicembre prossimo la stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Gianni Nanfa, Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia l'abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli costerà 50 euro mentre il singolo biglietto costerà 15 euro il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30 arriva il grande jazz a Gela appuntamento al Teatro Comunale Eschilo venerdì 11 dicembre Francesco Caffiso in duo con Mauro Schiavone giovedì 17 dicembre Antonella Ruggero venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato l'inizio degli eventi è previsto per le ore 21 per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20 per informazioni bisognerà chiamare i numeri di telefono 0933 91 1892 oppure 345 58 80 580 Corri con papà natale sesta edizione si terrà il prossimo 12 dicembre alle 9.30 in piazza Umberto I a Gela l'iniziativa sportiva è promossa dall'associazione Green Night Sport presieduta da Giuseppe Veletti informazioni e iscrizioni al numero 347 57 99 271 Siamo allo spettacolo c'è la pagina del teatro oggi e domani al Cineteatro Antidoto nell'ambito della stagione teatrale la compagnia De Saitta porterà in scena i rusteghi di Carlo Goldoni l'inizio dello spettacolo è previsto alle 21.30 lunedì 28 dicembre alle 21 la compagnia teatrale Antidoto porterà in scena Nabriscola la commedia in tre atti di Tiziana Guarneri la regia affidata a Giancarlo Bella con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione e averci seguito fin qui vi ricordiamo che servizi, notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato grazie e arrivederci grazie a tutti